Questa c'è? Vai a doppia, è così più bello come se le pijano. Viglio pure attivare. Viglio a dentro, eh? Eh... Alla stisame. Ok, buono. Vai. Eh? Artistic, eh? Sì, sì. Questa, diciamo, è tutto ciò che siete mangiate per crepare. Se voi volete morire, mangiate qua. No, una da cerchione qui. Alla, sì. Ho sposto, non so, sia di health. Sì, no. Versi. Motteninti seguiti, cioè di量ere il radiello il ragione. No, tre riean anche se dal chegございますci. Grazie a tutti. Salami, cinta, pepperoni, salami, cinta, pepperoni, salami, cinta, pepperoni, canati, salami, tomati, menge. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.